Da una parte ci sono i bambini che scalpitano, che vogliono entrare subito in acqua, dall'altra parte ci sono i genitori che sono attenti all'orologio, perché quanto tempo deve passare per poter fare il bagno dopo aver mangiato, è una domanda che un po' tutte le mamme e i papà italiani si pongono. Ecco, in realtà non c'è una vera e propria regola, o meglio ci sono tante regole. Bisogna vedere intanto quanto tempo ha il bambino, qual è la temperatura dell'acqua, ma soprattutto che cosa il bambino ha mangiato. Per cui mamma e papà, se il vostro bambino è vivace e particolarmente ansioso di entrare in acqua, attenzione all'alimentazione, prediligere una buona idratazione, dei cibi freschi, frutto e verdura che sono ricche di sali minerali, di vitamine, di acqua e di fibre, evitando cibi grassi che quindi ne richiedono una digestione più lenta e quindi allungano i tempi in cui il bambino può entrare in acqua.